buona giornata amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 26 febbraio 2022 il sole sta sorgendo è sorto da poco alle 6 51 e tramonterà nel pomeriggio alle 17 53 oggi è un giorno particolare è la vigilia di una domenica in cui avrebbe dovuto svolgersi il corso mascherato del carnevale di fano che è stato annullato come tante altre manifestazioni in tutto il territorio ma secondo come sta andando il tempo insomma forse è andata bene così comunque il tempo è in miglioramento dopo lo vedremo intanto vediamo chi è il santo del giorno il santo del giorno è santo alessandro santo alessandro di alessandria è stato vescovo dal 312 al 326 è famoso e noto perché combatté l'arianesimo una dottrina diffusa dal prete ario che negava la natura divina di gesù dunque né dio né uomo secondo ario ma una specie di demiurgo intermediario tra il padre e le sue creature convocò un concilio ad alessandria che condannò questa eresia al quale poi si al quale poi seguì il concilio di nicea un concilio più importante più rappresentativo che confermò la condanna dunque oggi è santo alessandro di alessandria e passiamo alle previsioni del tempo vediamo che questa mattina ci alziamo con un tempo perturbato il cielo è scuro molte nubi in molte la situazione è questa poi però nel pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare con piogge anche abbondanti con piogge abbondanti al mattino e poi un rasserenamento nel pomeriggio c'è un'attenuazione insomma del maltempo in giornata specialmente sul pesarese i venti ispirano sulle coste da una direzione di nord nord est mentre sull'interno da un direzione che va dal nord insomma abbiamo diverse diverse tendenze del vento e a questo punto cosa facciamo a questo punto diamo un'occhiata alle notizie dei giornali vediamo subito la pagina di fano del corriere adriatico vediamo che il giornale apre con una notizia che riguarda l'edilizia scolastica ci sono in ballo i fondi del pnrr e in questo caso l'amministrazione comunale fanese sta prontando dei progetti per essere pronta a partecipare alla distribuzione di questi fondi edilizia scolastica ecco 4 milioni di investimenti appunto che il comune di fano propone realizzerà una palestra e due asili nido i tre progetti rientrano nel bando della regione che indirizza le risorse del pnrr e proprio tra pochissimi giorni si dovrebbe conoscere il risultato di questo bando la palestra è quella che fa parte del progetto di ampliamento della scuola elementare gentile che era rimasta al palo dopo che era stato realizzato il progetto redatto nel 2012 di ampliamento della scuola invece gli altri due asili nido sono uno nel quartiere del vallato in via della colonna dove il girotondo verrà demolito e verrà ricostruito il girotondo attualmente ospita una sezione al suo posto verrà realizzato una struttura con tre sezioni capace di ospitare 45 posti è vero 45 bambini 45 bambini anche sarà alla capacità della nuova struttura che sorgerà vicino alla scuola elementare tombari a bellocchi dove poi dovrebbe sorgere anche la nuova scuola media dunque due asili nido importanti e ieri nel esporre appunto i progetti l'assessore ai servizi educativi samuele mascarin ha notato come il calo delle nascite farebbe propendere per una diminuzione appunto degli asili nido invece in controtendenza le domande dei genitori aumentano vuol dire che sempre più genitori lavorano ovviamente il menage familiare richiede lo sforzo di entrambi i genitori del papà e della mamma e quindi di queste strutture c'è sempre più bisogno quei sei lecci secolari non si devono toccare si parla dei lecci di piazza marcolini che è in procinto di essere interessata da un nuovo arredo ebbene gli ambientalisti hanno organizzato per oggi pomeriggio alle ore 16 un sit in in piazza promosso appunto per evitare che quei sei alberi siano appunto tagliati e non c'è bisogno dicono gli ambientalisti di tanti studi il comune ha commissionato un altro studio a chi se ne intende appunto di botanica gli ambientalisti invece sono sicuri che quei sei lecci hanno una buona salute e quindi non devono essere toccati domani si riunisce l'assemblea avis il nostro impegno nel tempo sospeso ha detto il presidente franchini che annuncia l'evento annuale domani alle 10 in seconda convocazione presso la sede di rappresentanza della fondazione cassa di risparmio di fano in via montevecchio si riunisce l'assemblea annuale ordinaria degli associati dell'avis un plauso ovviamente a tutti i donatori che per tutto l'anno si dedicano appunto alle trasfusioni di sangue e in questo caso abbiamo girato pagina e vediamo un progetto che riguarda l'ambito sociale pippi la responsabilità dei figli assegnate anche alla comunità pippi un nome un po così un nome scherzoso sembrerebbe ma in effetti prende il nome dalla protagonista di un famoso cartone animato il progetto si chiama pippi ed è del tutto voluto ed è tutto voluto il richiamo a uno dei personaggi televisivi pippi calzelunghe più amati dai bambini si rivolge infatti a loro in particolare in particolare ai figli e le figlie di coppie vulnerabili l'obiettivo ha dichiarato l'assessore al welfare di comunità che un po poi coordina e l'ambito sociale numero 6 l'obiettivo è ridurre il rischio di maltrattamenti e il conseguente allontanamento dal nucleo familiare dei più piccoli lo ha spiegato appunto dimitri tinti caro gasolio dragut disarmato salasso per il mondo della pesca il lievitare del costo del carburante e colpisce anche il mondo della pesca che consuma molti litri di gasolio il costo del carburante raddoppiato in un anno ma il prezzo del pesce resta stabile così l'armatore paolo palazzi l'armatore del dragut ha messo per circa un mese in disarmo il suo dragut uno dei dei pochi pescherecci rimasti che praticano la pesca d'altura nel porto di fano il caro gasolio sta mettendo in forte difficoltà la pesca d'altura alla fine del mese è difficile far quadrare i conti quando la spesa per il rifornimento del carburante di fatto raddoppiata da un anno a questa parte insomma ed è questo un altro colpo che colpisce uno dei settori che un tempo era dei più prolifici della economia fanese e che ora invece è ridotto ai minimi termini antenne 5g distribuite in quattro siti è stata approvata nell'ultima seduta del consiglio comunale una delibera che evita la concentrazione dell'elettrosmog in città è il consiglio comunale ora che decide ovviamente su proposta della giunta il sito dove collocare le nuove antenne e di nuove antenne del 5g la città ne avrà parecchie d'ora in avanti perché la nuova tecnologia verrà implementata verrà diffusa sempre più mensa dei poveri servizio da asporto erogato ora 120 famiglie e l'ambito territoriale sociale commissiona 2400 pasti caldi e il fatto che i pasti aumentino ovvero uno dei servizi essenziali per la vita dimostra come le difficoltà economiche colpiscono sempre più gente sempre più famiglia passiamo a fossombrone il sindaco provvede da solo a ristrutturare il suo ufficio e massimo berloni il sindaco di fossombrone che ha speso 10.000 euro dal suo conto corrente per dare un maggiore dignità all'ufficio del sindaco ebbene sono stati compiuti aggiustamenti al parquet sono state ristrutturate alcune porte comprati tendaggi rivestimenti per divani piastre radianti infrarossi elettrici e altri oggetti che sono stati offerti in comodato in questo caso si tratta di arredi e apparati per l'illuminazione dunque una spesa di 10.000 euro pagata direttamente con i soldi del primo cittadino un gesto così emblematico ma significativo a fossombrone a maggio ritornerà il trionfo del carnevale si farà il 6 7 8 maggio torna dunque nella città metaurense la rievocazione storico del trionfo del carnevale più che un annuncio in anteprima della proloco forum semproni è un inno alla vita per rivivere alla grande emozioni uniche che solo queste manifestazioni sanno appunto dare ok della comunità una battaglia lunga 44 anni a mondolfo per quanto riguarda all'ospedale bartolini che diventerà una casa della comunità il comitato salute pubblica chiede comunque chiarimenti sui fondi e sul centro alzheimer il bartolini è stato inserito lo sappiamo l'abbiamo visto nei giorni scorsi dalla regione tra le 29 case della comunità delle comunità marchigiane il comitato per la salute pubblica di mondolfo esprime dunque soddisfazione per il risultato ma al contempo chiede che vengono fatti tutti i passi necessari per dotare il territorio di ulteriori presidi sanitari di assistenza una rondine non fa primavera dunque occorre incentivare queste strutture perché il territorio è sempre quello più in carenza di assistenza sanitaria rispetto al territorio della costa vediamo ancora le notizie di senigallia si parla di un fatto di cronaca uccise il figlio con un colpo di pistola per loris pasquini 22 anni di carcere omicidio volontario aggravato dalla parentela niente attenuanti generiche considerate dal giudice un anno anche per il porto abusivo d'arme si tratta di loris pasquini un 73enne che è stato giudicato dalla corte di assisi ebbene è stato arrestato il 29 marzo scorso nella sua abita 29 marzo del 2021 ovviamente nella sua abitazione di roncitelli di senigallia in quanto al termine di un litigio aveva ucciso il figlio 26enne e quindi è stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato poi dal vincolo della parentela un anno poi per il porto abusivo della berretta utilizzata per il delitto vediamo ora la pagina di pesaro sul corriere adriatico vediamo che si parla di edilizia scolastica qui è la manzoni che la fa da protagonista la nuova scuola manzoni scuola da primato come la brancati afferma il corriere pozzi l'assessore pozzi riccardo pozzi illustra la riqualificazione grazie ai 5 milioni e mezzo dei fondi del pnrr per l'olivieri esclusa dalla graduatoria si spera nelle risorse aggiuntive insomma per edilizia scolastica ci saranno 14 milioni di euro dai fondi pnrr messi a disposizione dalla regione pesaro ne incassa più di un terzo quindi una fetta molto importante 5 milioni e 497 mila euro sono i contributi ottenuti dal comune che serviranno per la scuola manzoni di villa san martino altri interventi poi interesseranno un programma che è stato redatto dall'amministrazione comunale per 380 mila euro per il borgo santa maria 600 mila euro per la scuola di via fermi 3 milioni e 700 mila euro per la nuova dante leghieri e polo dell'infanzia 0 6 anni di via rigoni pnrr per giocarsi la partita comune cerca figura ad hoc si seleziona un candidato interno dovrà seguire i progetti con particolare attenzione rabbia bolkestein stop investimenti si crea incertezza e la reazione dei bagnini dei concessionari di spiaggia a questa svolta che è stata assunta dal parlamento e che rende più prossima l'applicazione di questa direttiva che consentirà a tutte le concessioni di andare nuovamente a gara e ovviamente che ha fatto investimenti si trova in questo caso molto svantaggiato perché perderà insomma quello che è stato fatto è ovviamente per in questi due anni di pausa investimenti non se ne faranno più sosta gli hotel già a caccia appliate il santa marta dagli albergatori le priorità per la prossima stagione cominciando da levante sul lungomare di ponente di pesaro si evidenzia la necessità di riqualificare soprattutto i marciapiedi e vediamo come i giornali parlino oggi di due argomenti prioritari importanti ovvero le manifestazioni che molti cittadini hanno fatto per protestare contro putin contro l'invasione della ucraina lo vediamo qui in questa pagina fiaccole bandiere cartelli per la pace 300 sono scesi in piazza davanti al teatro rossini di pesaro ucraini siamo con voi il sindaco ricci due anni fa la pandemia i vostri medici furono i primi ad aiutarci non lo scordiamo ha detto il primo cittadino e poi dicevo l'altra notizia è quella che riguarda un po l'economia della città vediamo come molti molti articoli di giornali evidenziano le difficoltà appunto degli operatori degli albergatori ma anche dei commercianti dei proprietari di aziende ad andare avanti passiamo ora alle notizie di cronaca moglie costretta rapporti sessuali il marito dovrà scontare cinque anni la donna era rimasta incinta dopo aver subito la violenza dell'uomo che ora si trova già in carcere si tratta di un marocchino di 50 anni residente nell'interland pesarese accusato appunto di maltrattamenti in famiglia aggravati in questo caso rimane alta la pressione su galantara vediamo sul fronte della sanità psichiatria potrà riaprire tra 20 giorni lo ha detto il direttore roberto magnoni perché considera il calo dei ricoveri dobbiamo scendere a 50 posti letto stop agli ingressi dunque cale in maniera significativa la curva dei contagi anche nel nostro territorio e anche quella dei ricoveri della pandemia e si alleggerisce il carico dei malati e covid sulle strutture di indigenza della provincia di pesaro e urbino tuttavia resta alta la pressione sull'area vasta 1 in particolare sull'utilizzo della rsa di galantara per trattare i soggetti positivi provenienti dalle case di riposo oppure i pazienti che necessitano di una degenza ospedaliera insomma da un punto rimane ancora alta l'attenzione dall'altro però ci sono delle buone prospettive per l'uscita dalla pandemia e vediamo anche l'elezione del presidente dell'ordine dei commercialisti in risultato il commercialista marco lucchetti fanese nuovo presidente si tratta di un professionista di 58 anni che guiderà l'ordine per il prossimo quadriennio è stato consigliere uscente con delega alla formazione è già revisore del consiglio nazionale insomma una persona più che qualificata intesa tra le star italiane del natale tutti in viaggio con il christmas rail qui si parla di un accordo che è stato siglato tra l'azienda di soggiorno e di turismo di bolzano e l'unione del proloco vediamo qui il presidente delle unioni delle proloco provinciali damiano bartocetti con l'assessore regionale francesco baldelli e roland buratti dell'azienda di soggiorno di bolzano un accordo che rafforza la collaborazione strategica per sviluppare la promozione delle iniziative che si svolgono a natale insomma la costa con la montagna tutti insieme per valorizzare il natale dei rispettivi territori urbino via alla ripulitura di 300 targhe il fascino sta anche nei dettagli l'assessore guidi interviene sull'intervento in centro storico in bilancio 25 mila euro per il recupero ad urbino che poi è un sito unesco e patrimonio delle umanità è iniziata appunto la ripulitura di più di 300 targhe commemorative se non è un record però poco ci manca insomma una bella iniziativa che dà anche così significato alla comprensione di certi siti che magari passando si notano appena però insomma acquistano più evidenzia in questo caso dunque ora vediamo la pagina del resto del carlino sulla pagina di fano vediamo che si apre con l'operazione delle scuole operazione asili nido ne costruiremo due il sindaco massimo seri insieme allo staff tecnico annuncia anche la realizzazione di una moderna palestra e quella della scuola gentile abbiamo visto e qui abbiamo invece una testimonianza di una bella signora ucraina vittoria si chiama vittoria smoliac ha 44 anni 20 ne ha passati nella nostra città è sposata con un fanese i miei genitori in fuga dalle bombe li ho scongiurati di abbandonare tutto e lo hanno fatto incolonnandosi subito verso la polonia e ora gli aspetto a fano ha detto la signora ebbene un una testimonianza significativa per come i residenti ucraini nel nostro territorio soffrano siano in ansia per quanto accade nella loro terra di origine qui ha detto vittoria ho costruito qui a fano ho costruito la mia famiglia ho messo al mondo tre gemelli ho avviato un'attività commerciale ma il mio cuore continua a battere per l'ucraina dove sono nata e cresciuta e dove è rimasta la mia famiglia d'origine e ho degli amici ha dichiarato appunto la signora e ieri si è svolta in piazza 20 settembre a fano una manifestazione organizzata in favore delle donne ucraine seri e ha partecipato con il tricolore agite fate qualcosa i nostri parenti si trovano sotto i bombardamenti è stato l'appello appunto delle immigrate nel territorio un bellissimo articolo dedicato al motor club lucio ricci uno dei sodalizi storici della città di fano che è stato premiato dall'aci e il riconoscimento come sodalizio storico d'eccellenza che può contare oltre 50 soci la storia iniziata con il circuito famoso dei go kart ormai rimpianto la cui dismissione è stata è stata così rimpianta da molti molti appassionati di motori pensate se il circuito dei go kart in sassonia fosse ancora in attività quanta promozione la città ne avrebbe ottenuto passiamo a terre roveresche nuova piazza a san giorgio con la illuminazione a led l'amministrazione ha intenzioni di acquistare l'ex cinema per farci un teatro e poi ancora un carcere dove era morta la legge un incontro contro le violenze in cella al balì e l'appuntamento è domani col giornalista raffaele sardi al balì di colli al metauro ad urbino vediamo l'attribuzione del sigillo della università uno dei più prestigiosi riconoscimenti dell'ateneo urbinate andrà quest'anno al procuratore gratteri il procuratore della repubblica del tribunale di catanzaro nicola gratteri una personalità di spicco nella lotta alla criminalità organizzata in particolare all'andrangheta saggista e che ora riceverà questa significativa onoreficenza e poi parliamo anche della dell'arredo della città ducale affissioni carenza di spazi e crisi di mercato sono sempre meno i manifesti attaccati sui muri del centro il che acquista il decoro l'assessore massimo guidi cerchiamo di ripulire la città ha dichiarato vediamo anche le pagine pesaresi del resto delle carlino bandiere al cielo e 300 fiaccole accese vediamo qui alcune immagini della manifestazione che si è svolta ieri davanti al teatro russini contro la guerra in ucraina è un'altra testimonianza di svetlana che difende la madre russia provocazioni da troppo tempo quelli che danno ragione a putin ci sono anche costoro che hanno udienza nei giornali questa mattina sono a rischio 60 milioni di esportazioni pericolo di effetto domino sulle imprese e la guerra si riverbera anche nel nostro territorio in senso economico vediamo il settore del mobile ora dovremo cercare nuovi mercati l'allarme lanciato dalla presidente del settore legno lorena fulgini le sanzioni ci preoccupano eravamo in crescita e vogliamo continuare su questo percorso ma sarà difficile la benzina verde ormai sfiora gli 1,9 a euro al litro ora 50 euro non li mette quasi più nessuno insomma si cerca di risparmiare anche nell'uso della macchina perché pagare quasi 2 euro al litro è veramente una cifra astronomica materie prime troppo care al via le prime ore di cassa integrazione le imprese non ce la fanno e mettono gli operai in cassa appunto integrazione i sindacati qualcuno soprattutto i più piccoli preferisce lavorare di meno e vediamo appunto come il settore economico risente di quello che sta accadendo in ucraina ma poi c'è anche l'effetto della crisi il caro vita la pandemia insomma un concorso di situazioni veramente penalizzanti medici in sciopero due giorni contro la regione ad organizzare le giornate di proteste il sindacato smi si stanno smantellando le guardie mediche i pazienti chiamano il 112 hanno indotto due giorni di sciopero il primo e il 2 marzo appunto i componenti responsabili di questo sindacato e prima di concludere la nostra rassegna stampa dato che oggi è sabato vediamo anche le pagine di sport li vediamo sul resto del carlino la vis si prepara ad affrontare lentella banchini avvisa la mia vis è arrabbiata stiamo producendo ma raccogliendo meno abbiamo motivazioni l'avversario però è al top come squadra e singoli più di modena e reggiana quindi non sarà una partita facile mentre per quanto riguarda il fano calcio catolano catalano la prende con filosofia gli assenti ebbene fanno alternative si giustifica ma insomma un po di preoccupazione ce l'ha domani i granata saranno in trasferta in salita per quanto riguarda la classifica con la mattese in serie utile tomassini al posto di zanolla zanni per l'icaxio insomma una partita da seguire con tutto l'entusiasmo dei tifosi e questo per il momento è tutto vi auguro buon weekend e buona giornata qui noi ci fermiamo e ci risentiremo lunedì alle ore 7 a risentirci tutti i minuti tutti i minuti